L'attrice più simpatica che ho conosciuto è sicuramente Mania, è anche la più perversa, la più sporcacciona, proprio chi è la Mania, la più maiala che ci sia, tutti dicevano sempre di lei ed era vero, proprio una maialona, però simpatica, come faceva lei i rigadoni alla puttanesca, non li faceva nessuno, insieme quando facevamo i film cucinava pure e mentre cucinava io mi avvicinavo di dietro e lei proprio si sporgeva per farsi prendere mentre cucinava, proprio divertente, simpatica, proprio allegra, pensa che quando giriamo in macchina lei prende, si china e cerca sempre di fare cose e poi però al semaforo, quando si ferma al semaforo, semaforo rosso, bocchina più non posso, come il semaforo verde, bocchino si perde perché deve ritornare alle cose, allora ci facciamo un sacco di risate, guarda che mi telefona e mi dice, oh semaforo rosso, bocchina più non posso, è molto simpatica, è sicuramente quella a cui sono più affezionato, a cui voglio più bene, fra tutte le attrici con cui ho lavorato, proprio una simpaticona vera.